ciao a tutti ragazzi stasera non è uscito nulla di nuovo adesso vi faccio vedere tutto comunque già qui potete vedere le ambate che sono uscite e anche l'altra volta più o meno è uscito da una roba simile ma non ho fatto il video e comunque 45 qui a genova ambata 50 milano il 2 napoli il 59 palermo il 45 la roma e 37 venezia come potete vedere qui allora però uscito per un lambo su monster dog adesso andiamo a vedere perché devo vedere ancora bene qui nulla di nuovo qui nemmeno più o meno le solite perché non è facile ragazzi che si accoppia sempre quindi quando si accoppia ovvio che fa piacere c'è lambo tutti contenti però tante volte esce così più o meno simile e non si accoppia con lambo però qui su monster dog ho visto che si è accoppiato lo stesso in sei numeri però 259 259 eccolo qui su palermo ambus su sei numeri non è uscito granché capisco poi quelli che tutti fanno gli smorfiosi che si fanno tutti però è così quando non esce lambo secco e così volevo fare il video volevo fare anche questo tipo di video per far vedere anche quando non esce nulla mi sembrava mi sembrava giusto allora qui sto guardando due a napoli e due a palermo tutte due prima posizione anche qui madonna no ma qui il programma monster dog duro dava il 2 si dava il 2 qui preso qui preso anche quindi niente allora super in alotto io volevo far vedere un attimo allora stasera i numeri che sono usciti sono 1 3 41 55 84 85 io ho giocato poche schedine ho fatto solo un 2 basta perché non ho giocato il sistema ma se avessi giocato il sistema potevo benissimo prendere un 3 o diversi 3 e diversi 2 quindi sui 40 euro magari all'incirca potevo anche prenderli che non è male perché ripeto quando si fa giocare le cose positive sono sempre ben accette e giocare con i soldi loro comunque sempre buono io ho preso ho fatto un insieme un 2 perché non ho giocato appunto il sistema e qui comunque nella griglia è uscito il 3 come potete vedere 85 il 41 non è uscito altro perché sto guardando qui l'uno non c'è no non c'è poi il 55 non meno e il 84 nemmeno però cito 85 e questo è così ragazzi tra l'altro era doppio questo 85 85 anche qua il 3 mi sembra che era singolo il 41 era singolo quindi così ragazzi io faccio faccio video lo stesso voluto fare il video lo stesso anche se una serata un po così e gli avrò preso 5 6 euro quello che ci ho giocato per la fine perché ho speso quella cifra lì se giocavo sistema ripeto era credo un po meglio perché forse il 3 lo azzecavo anche se non era detto perché a volte nelle colonne non compare sempre quando tu hai i numeri che hai scelto non è detto che poi compaiono tutti nelle colonne comunque niente ragazzi faccio questo video e mi raccomando cliccate su like se volete iscrivetevi vi mando tutti i link sotto i miei programmi sotto i video e sentiamo la prossima comunque comunque guardate tutte le mie playlist e faccio un sacco di cose faccio arte faccio quadri faccio musica strumentali su youtube ho fatto un sacco di cose e non faccio solo lotto superna lotto quindi potete guardare la mia pagina su instagram john art gallery gianfranco sieni sono io e lì c'è tutto tutti i miei dipinti tutto quello che faccio va bene e vi lascio il link sotto anche dell'accademia dell'ambo secco così almeno avete comunque tutti i raguagli per ricavare voi stessi gli ambi e dove rivelo dove io vado a prendere i calcoli quindi c'è anche il programma 12 ambi secchi di john che viene in dotazione però non è questo qui è quell'altro quello singolo c'è ruota per ruota non è come qua che ti dà tutte le ruote però fa capire veramente dove io vado a prendere i calcoli per fare gli ambi e robe varie e più c'è anche una statistica di un anno e mezzo di estrazioni di ambi anche qualche terno va bene ragazzi ci sentiamo al prossimo video vi saluto vi ringrazio e alla prossima e niente dai speriamo bene di vincere un po di più la prossima e anche io speriamo va bene dai ci sentiamo alla prossima vi saluto vi ringrazio e vi auguro buona serata e alla prossima ciao a tutti grazie a tutti ciao grazie a tutti grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti